Avete mai provato a pensare se anche Gesù ha sperimentato la vulnerabilità di qualcosa che tu proponi e incontrarsi con qualcuno che rifiuta la tua proposta? Il Vangelo di questa domenica è affascinante. Questo tale che non è indicato come in un altro Vangelo come giovane è un tale che potrebbe essere rappresentativo di chiunque di noi. Va da Gesù con una domanda legittima, bella, potente, forte. Cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù che ci prende sempre con le pinze perché ha una dimensione graduale nel nostro cammino chiaramente dice guarda ci sono i comandamenti, c'è la legge di Dio, c'è quello che tu sai, però poi c'è un desiderio all'interno del cuore che fa sì che noi ci spingiamo sempre più in là, c'è sempre un pezzo in più e quello spingersi in là dice, io queste cose signore le ho sempre osservate, adesso non dirmi, non puoi darmi e dirmi delle cose che sono un po' banali, le ho sempre fatte. E Gesù dice una cosa solo ti manca. Vedi, il primo principio è unità, una cosa ti manca. Fare unità, l'uno, l'uno che raggruppa il tutto, che mette insieme l'unità della tua persona, una cosa ti manda. Allora vendi quello che hai, dallo i poveri, poi vieni e seguimi. E qui entra in campo quella piccola vulnerabilità per cui lui aveva molti beni, se ne andò un po' triste. Mi affascina anche un po', devo dire onestamente che neanche in quel caso Gesù gli corre dietro. Gesù ha saputo parlare chiaro, ha detto quello che doveva dire e si dice nel Vangelo che se ne va poiché ha molti beni. Quei beni non sono solo la somma delle cose che tu hai, sono anche il segno di una zavorra che ti impedisce di prendere il volo. I beni non sono il male, ma quando tu hai dei beni e quando tu non possiedi dei beni, ma in realtà sei un po' posseduto dai beni, sono loro che posseggono te, c'è un freno, un freno tirato che ti impedisce di andare lontano. Però c'è anche un'altra cosa che dobbiamo sentire noi, questo Vangelo io credo che sia il grande Vangelo anche delle comunità. Quando Gesù dice una cosa ti manca, nel Vangelo proprio San Marco sottolinea la potenza di questo atteggiamento. Gesù si voltò, lo guardò, lo amò. Voltatosi, l'amore. È bellissimo questa cosa. Cioè non è che perché tu dici delle cose esigenti le dici né con disprezzo né con il desiderio di fare un carico da 90 pesantissimo sulla persona perché si senta ulteriormente appesantita. È l'amore che ti spinge a dire che la stessa realtà dell'amore è esigente perché ti fa chiedere dono della tua vita, ti fa dire che sei dono e che tu non puoi farti possedere da altro. Allora anche Pietro poi farà la sua domanda, ma noi abbiamo lasciato tutto. Non ti preoccupare Pietro, ti ritornerà tutto, ma ti torna già tutto. Allora mi piace che oggi, guardando le nostre comunità, siamo ad ottobre, riprende tutta l'attività pastorale, mi pare che quel tale se ne vada non solo da Cristo, ma dalla comunità. E quella cosa che ti manca non è solo dare via i tuoi beni, ma dare via ciò che ti ha impedito sempre di poter camminare in maniera leggera. Vedete, quando si parla di leggerezza anche nelle scelte, che sono molto radicali per il Vangelo, non si parla di superficialità, ma di quella realtà che ti libera il cuore, che ti fa potente nel cuore, che ti fa correre e che ti fa gioire. Siamo usciti questa settimana dalla festa di San Francesco, dai beni per ritrovare un altro bene più grande. Tu, Signore, diceva San Francesco, sei il bene, il sommo bene, tutto il bene. Ecco, è con questo che io desidero fare in modo che questo Vangelo mi aiuti e ci aiuti a capire che c'è unità, c'è una comunità e voglio guardare in faccia lo stesso Cristo senza girargli le spalle per ricevere e ridonare quell'amore che mi ha donato e che mi ha regalato. Grazie a tutti.